Nell'edizione 2019 sarà presente anche un artista napoletano, un artista sociale, Vico Pazzariello, un capitano come lo chiamano, è un artista di strada errante che racconta e racconterà quello che è questa manifestazione indigena, il suo tema, il mercato della terra, attraverso i suoi produttori e i suoi prodotti, cercando proprio di coinvolgere in maniera molto allegra e scansionata i partecipanti al mercato. Lavorano nel sociale per cercare di riuscire a estrarre giovani artisti di strada e quindi si sposava bene con il tema del mercato della terra in quanto sono tutti piccoli produttori e noi vogliamo proprio questo coinvolgimento con la gente, quindi è un artista che senz'altro farà ridere ma soprattutto coinvolgerà il pubblico presente. Vi aspettiamo tutti a San Giorgio Canavese l'11 e il 12 maggio, il mercato della terra e della biodiversità indigena, autoctoni, in via di espansione. Grazie. 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 Grazie.